Mantenere inalterata la qualità dell'organico e alzare l'asticella rispetto all'ultima stagione. Questo il diktat da seguire in casa Barletta, che come ha lasciato intendere lo stesso presidente Mario Di Niccoli nelle scorse settimane punta alla vittoria del campionato. Lo sagginestra, che ha raccolto il testimone di Francesco Farina, e lo spirano i tifusi. Il mercato della società bianco-rossa però allo stato attuale è fermo. I rinforzi arriveranno in ogni reparto, ma da via d'annunzio tutto tace. In attesa del rientro in città del presidente Mario Di Niccoli, il nuovo responsabile dell'area tecnica Luigi Pavarese ha le mani legate. Tanti sondaggi, ma nessuna trattativa concreta. Da Domenico Santoro, reduce dal campionato di Serie D, vinto a Brindisi e nel mirino anche dell'Altamura, fino alle suggestioni Nicola Strambelli, Pablo Burzio, Fabio Longo e Loris Palazzo. Attaccanti di prima fascia, che ovviamente pretendono cifre importanti. In divenire anche la situazione legata alle riconferme, Nicola Loiodice non farà parte del nuovo corso bianco-rosso. Il fantasista barese, trascinatore del Barletta nella scorsa stagione con 10 gol e 8 assist, è ormai vicino alla firma con l'Altamura. Una trattativa che sembrava ben indirizzata, positivi infatti i contatti tra Giuseppe Abruzzese, procuratore del calciatore, e Luigi Pavarese nello scorso weekend. Ad inizio settimana la società bianco-rossa ha fatto valutazioni diverse, con il calciatore che successivamente ha accettato la corte dei Murgiani. In bilico anche Andrea Petta, che potrebbe riavvicinarsi a casa. Sul tavolo c'è già la proposta del Trapani. Un Barletta che continua intanto ad avere difetti di comunicazione. Nessuna conferenza stampa all'orizzonte, almeno per questa settimana, diverse zone d'ombra sia sul nuovo organigramma societario che sullo staff tecnico di Mister Ginestra. La piazza resta in attesa.